Chi ingrassa di più in 24 ore vince 1000 euro Broccoli, peperoncino, marmellata Noi siamo eroi Che schifo Cap'è cazzo Prima della colazione direi la prima pesata del giorno Signori e signori è qui che rasco di primi problemi Io mi vergogno però Io sono curioso perché non so quanto peso Vedo 4 e 3 Vedo di essere leggermente in sottopeso per la mia età ma va bene Vediamo 79, si si ne piacerebbe 77, non male È arrivato il momento di panzone Vai attenzione panzone Panzone si pesa 83 Per prendere i primi chili iniziali abbiamo la challenge dei cornetti Oh mio dio ma quello è incredibile Voglio registrare più video del genere Perché è un'ottima scusa per mangiare e non sentirsi in colpa Così arrivi però a 75 chili Per il video Ti mangio più di queste cose vince 50 euro Attenzione Passatemi le due Grazie Mamma mia Attenzione siamo alla fine del primo Ok 1 a 1 Ma io vado avanti Non si è distrutto Non si ferma oh Sarà una corazione molto pesante Switch Switch Vai Vai Nintendo No Il bombolone è a fungo Oh mio dio questo è incredibile Io l'ho mangiato il tuo Sono a un cornetto e un bombolone mangiato Quanti secondi ho per finirlo 10 secondi ho per finirlo 10 secondi ho per finirlo 9 8 7 6 5 4 Manda giù 5 2 0 Persa Persa Non c'è più il tinto No mi spiace Ma lui non l'ha mandato giù Non l'ho mandato giù Apri la bocca Ah è vero La patata è torna L'ho mandato giù Come sono una persona onesta Guarda questi qui sono i tuoi 50 euro Siccome sono anche io onesto Tu dovrai fare una penitenza Ti mangi il peperoncino Io lo sapevo Ma io sapevo che c'era un'altra regola Sì c'è il latte Che potrai bere dopo 10 secondi Che hai ingerito il morso del peperoncino Allora fermi Serve rilassamento in questa città Ah sì 10 secondi Ok dopo che l'hai ingerito No No È nella bocca Lo devi ingerire Ok 1 2 Oddio 3 Ma vado rilassamento sti secondi 5 6 7 8 9 10 Vi ricordo che il latte allevia il dolore del peperoncino Voi nel dubbio non evitateci Ma il latte lo allevia solo nel momento in cui bevo Poi non allevia più un c***o Devi più latte Gioco dell'iscritto Tra l'altro ci stiamo avvicinando anche al milione di iscritti Questa pace è ancora disperato E l'iscritto fortunato di oggi è il carissimo Domenico Ciao Domenico Grazie mille per essere qui Io conosco il fratello Ah conosci il fratello Sabato Se vuoi essere Se vuoi essere salutato mi raccomando controlla di essere iscritto Dovremmo cucinare la tua pasta ma sarai bendato e non saprai gli ingredienti che sono all'interno Bello Scegli destra o sinistra Destra Ok non so che cosa sia ma va bene Cazzo scegli destra o sinistra Sinistra fra mi vendicherò Ok no 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 sinistra ti è andata bene Non male non male Ne manca solo uno Destra 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 Posso togliere Non voglio che non te lo dico Destra o sinistra cap Destra Destra o sinistra Destra Oh si è salvato all'ultimo Destra Mi posso togliere quello che c'era qui fra guarda quanto è grande Destra o sinistra Cap scegli bene Scegli bene questo è importante Questo è importantissimo Dai Destra Destra No Broccoli 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 Al posto della nutella va bene Ok meglio raga meglio Ovviamente il nostro obiettivo è mangiarne il più possibile Perché dobbiamo ingrassare Se volete vincere i mille euro dovete soffrire Io mi godo la scena E fa anche se è schifo No raga È l'arriuspo che sta a cagare Raga dobbiamo mangiare Dai che si deve ingrassare Oh ho cazzo Io l'ho fatto Dove vai oh Anche tu Ma cosa sto facendo No sto male raga Ma chi è che ha cucinato Cap Ah ecco perché Allora non so gli ingredienti che fanno schifo Sei tu Sono le 15 e 33 Io sono un orologio svizzero E indovinati un po' Devo cagare Quindi sicuramente dopo peserò di meno Perfetto Signori e signori ci ripesiamo Io ho paura raga La differenza rispetto a prima 54 e 9 Oh mio dio Hai messo mezzo chilo Oh mio dio Ho messo su mezzo chilo Io vi ricordo che però fermi un attimo Ho cagato Ho cagato prima Quindi 71 e 7 No 71 e 8 No no 70 e 7 70 Hai cagato tutto Ho cagato veramente Lì ero e lì sono Dopo che mi sono ingorsato Di biancornetti e roba Prossimo challenge Hai detto bene amichetto mio 10 minuti A partire da ora Chi mangia più dog Ok Quanto c'hai fatto E' un po' Ho dovuto fare Mamma mia però quanto peso Attenzione perché qualcuno Potrebbe avere qualche ingrediente Misterioso Stai scherzando No 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 eh No H Cosa stai facendo Guarda no Anche voglio vincere mille euro Ovviamente penitenza Perché ne manco di me Qual è la penitenza Non te lo dico 5 minuti e 52 Siamo a metà Ne prendo un altro No vabbè Voglio vincere mille euro Assurdo Quanto ketchup c'è Ho vinto il terzo Ma se io sto il secondo E' il terzo fra Oh mio dio raga 3 minuti Raga adesso D'oltremo morso al terzo Ma che cavolo No Oh No no raga non me ne fregano Dopo mi vado a rivedere la clip Riguardala Ma che stai scherzando E' al primo Se lui si è lamentato Ha detto si è ancora al primo Io ero a metà del secondo Sì ma dopo sono passati 4 minuti e mezzo Raga ne ho beccato uno con gli alici Ha beccato lo dog con gli alici Cioè Li ha fatti lui E l'ha beccato lui Che cura Ma aspetti Io prima nel dubbio lo guardo Come va dottore L'hai beccato con gli alici Che scherzo raga Sto sboccando veramente Io non ne ho più tre Io ho finito raga Deve iniziare il terzo Deve iniziare il terzo Si è pari Ma cosa Sì sì Fai schifo Che cos'è E il peccatore Sarà pulito per bene Perché prenderò lo dog Che ha buttato a terra Prendo questi due brustellini Che guarda caso Sono pieni di maionese e ketchup No raga E te li sbotterò in faccia No raga No raga Sei pronto? Vai 3 2 1 Noo Che schifo Che schifo Che schifo Che schifo Dillo che ti è piaciuto Farti schiaffeggiare Dai chiuso in faccia Oddio Che schifo Farti schifo E poi tutta sporca No Dopo il donut Quello che ci vuole È una bella Oh mio dio Ma che c'hai Ma che mi spiega Il tuo metabolismo No va bene Ragazzo Ma questo Ma ti è fatto I tassi mangi Ma io ancora non ho cagato 79 79 Hai preso 2 Ma io ho mangiato più dog Ah ti avrei mangiato il donut Io ho mangiato più dog E beh Hai fatto anche sport Sono un ciccone mancato Oh mio dio Alexa è pronta Sono nata pronta O almeno molto ben preparata Ottimo Forza cominciamo Oh mio dio Guarda il cloud Oh mio dio Raga tutto pronto per uno scherzo Il corrido arriverà da qua A te nascosto fuori Qui ho riempito di candele Che la paura sia con noi E qui Ha appena suonato Ha appena suonato Grazie Ciao ragazzi Ma se n'è andato così Ma se n'è andato così Ci è rimasto malissimo È scappato Sono le 20 e 20 ed è ormai ora di cena Cosa mangiamo H Allora per prima cosa dovete scegliere uno di questi due fantastici fani Ma uno ha qualche sorpresa all'interno e mi sa che la faccia La faccia l'è capitato dice qualcosa Cosa c'è il cup? Attenzione Attenzione illustraci Oh quello di caso è molto buono vero? Attenzione Broccoli Peperoncino Salutare Cioè raga state scherzato Che marvellata Ma come lo manzo sta roba? Con la bocca Io è tanto continuo a diglossare Mi sono mangiato un piatto di pasta Con pezzo all'interno Questo è niente Noi siamo eroi Guardate come lo finisco tutto Che schifo Eroi cheat Porco due In questo momento quindi te stai ingrassando E io sto panino non lo mangio neanche se mi pagano Ah volendo lo puoi mangiare Vabbè andiamo avanti Tuttavia per la scelta degli altri panini Ci sarà un piccolo quiz sul canale di Cap e Catto Ok Andiamo con la prima domanda Allora vince chi tocca prima il panino In questo caso ci chiamo con questo panino Ok Vai Sei pronti? Però devi rispondere subito Che animale c'è nella miniatura dello zoo? Soccati lo zoo Leone A mia bocca No 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 Dai Dai che palle rega Mazza Burger King packaging non ci siamo Prossima domanda Vai Siete pronti? Prontissimi Come si chiamavano i serpenti? Allora Uno lì E uno lì Infatti devo rispondere Mary Jane e baby girl Ho una memoria di ferro ragazzi Ho una memoria di ferro Questo se lo vera Questo se lo sveglia Ultima domanda Che è stato il primo ad accendere la piaccola? Eeeh Cazzo Ok L'ha indovinato Come no? L'ha accesa prima Io prima l'ho fatta e poi l'ha accesa lì No no l'ha accesa Io ne so Ok Ma sbagliato Ma sbagliato Mi chiamavano che fai le domande Che fai le domande Ed è tu dai Però no dimmi che i chicken Eh vabbè Ma c'ho tutte le strighe nel mondo Ma dai Ma i chicken le hai fatto cadere a terra Che buono Ho capito Vado a mangiarmi un piatto di kebab Finito il panino Signori Rieccomi Grazie No Oh oh No Non inizi a fa cazzate Che tu ogni cosa che tocchi cade La fatemi mangiare Un po' di marmellota Mi raccomando Domani Facciamo la dieta Sport Fitness Training Fiera della salsiccia Sto panino di Finito il panino Oh è finito il panino Cazzo Cazzo è finito il panino Cazzo è finito il video Anche mi sa Ma signori e signori Oggi è stata una lunga giornata Io non ce la faccio più Sali su sta fidaccia Che io sto esplodendo Vediamo un po' Attenzione Oh mio dio 56 e 1 Oh mio dio Fermi 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 56 e 1 Raga non so quanto sia precisa sta roba Ma ho preso 2 kg Ma stai spezzando Cioè vabbè a me si è rotta la bilancia 8 kg 8 kg 8 kg Raga si è rotta la bilancia Sì devi scendere che pesi troppo 8 kg Mi sa che li ha vinti lui Cioè ha fatto qualcosa che non è mai successo 71 71 toni Oh hai preso quanto? 03 3 grammi Vabbè un po' di 3 3 4 grammi 3 Non 3 grammi Raga io invece sono 86 e 86 e 2 Raga Ah stai con la fotocamera in mano Ah porca madre E quindi niente sei soddisfatto Ecco a te i tuoi soldi E grazie Cioè il più cecco di tutti vince Oh ti pareva Sempre così Al prossimo video Ciao Ciao Ciao